La storia di Lorenzo, operato per un tumore, per fortuna Benigno, si è laureato in giurisprudenza durante il ricovero. All'ospedale di Forlì, un 24enne di Ravenna si è laureato durante la degenza dopo un intervento chirurgico al ginocchio. Marino Cancellari ci racconta la sua storia. Mi hanno asportato una massa in prossimità della rotula attaccata al femore. Sì, è risultato un tumore Benigno, per fortuna. Sulla neoplasia, risultata poi Benigna, bisognava intervenire chirurgicamente subito. Ma Lorenzo, a breve, avrebbe dovuto sostenere la tesi di laurea in giurisprudenza. Che fare? Con tenacia, determinazione e l'aiuto di tanti, adesso, dopo un mese di ricovero, Lorenzo cammina e si è laureato. Ho trovato persone veramente disponibili, ci siamo arrangiati e mi hanno lasciato lo stanzino delle fisioterapiste nel pomeriggio e la sera per studiare. Dallo stanzino dei fisioterapisti, Lorenzo ha discusso anche la tesi, collegato online con la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna. La laurea la dedica alla madre, recentemente scomparsa. L'ospedale sicuramente ha fatto quello che doveva fare, non solo per la patologia oncologica che noi abbiamo trattato e risolto, ma soprattutto anche per la vicinanza a cui infermieri, osca, possale, medici, tutti quanti hanno cercato di contribuire nel migliore dei modi. Oggi Lorenzo lascia l'ospedale, guarito e laureato. So che mio papà mi ha preparato i passatelli e non vedo l'ora di tornare a casa e fare una bella mangiata. Prossimo telegiornale a mezzanotte e dieci, buona serata.